Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio è un po' di tempo che non facciamo un video siamo stati veramente super presi questo nuovo paese ci ha davvero un po' sconvolti ci ha preso molto tempo insomma in senso buono ovviamente abbiamo fatto un sacco di cose bellissime ci vedete un po' abbronzati esatto anche un po' malati esatto perché è stato tutto un mix un mix un miscuglio di esperienze di emozioni di stanchezza devo dire e se volete vedere perché siamo in queste condizioni continuate a vedere i nostri video perché non è in questo esatto no premettiamo ragazzi questo video sarà un video molto tranquillo un video in cui ci spostiamo molto e arriviamo alla fine del nostro viaggio in Malesia per poi appunto iniziare quello nel prossimo paese nello scorso episodio vi abbiamo portati a Kuala Lumpur capitale della Malesia e vi ricorderete sicuramente che abbiamo partecipato al Taipusam quella celebrazione hinduista bellissima super colorata e rumorosa ma qualcuno si ricorderà anche di quel pezzettino di video in cui vi dicevo che ci stavano per arrestare mi chissà di chi è la colpa però non vogliamo spoilerare nulla no e infatti in questo episodio decidiamo di andare a visitare il simbolo più iconico diciamo di Kuala Lumpur le Petronas le Petronas Towers esatto ragazzi ho dette anche Twin Towers che sono tra l'altro le torri gemelle più alte al mondo attualmente no non aggiungiamo nient'altro vi lasciamo il video mettetevi comodissimi comodi e buona visione ci siamo ragazzi abbiamo mangiato anche troppo come al solito ora siamo pronti verso la metro stava accennando una leggera pioggerellina ma ha già smesso quindi dai siamo carichi non possiamo perderci anche stasera questa iconica questa cosa iconica ecco ma dai è bello prendere la metro non mi ricorda quando andavamo a Londra qua danni i tokens ragazzi non il bigliettino 4 ringhizzi tac comunque stazioni top super pulite ordinate ma è bellissima ragazzi mai visto una metro così pulita c'è una stazione non un metro ok su in alto no si guarda gone back e noi ci andiamo a KLL KLLCC alla prima volta in teoria prendiamo la monorail che è quella esterna che è quella esterna ok ragazzi dobbiamo comprare la mascherina perché non ce l'abbiamo comunque devo dire che l'avrà detto Jessica sicuramente le metro sono veramente veramente bello oltretutto c'è per entrare nello spazio diciamo delle metro monorail e treni devi passare questi tornelli una volta passato questi tornelli hai un ampio spazio dove poter andare a prendere i treni andare a prendere la monorail che è qua sopra la metro cioè comunque è super super fornito di trasporti pubblici e oltretutto costano veramente poco grazie a posto a posto I ok ragazzi siete pronti gira con me 3 2 1 ma non si vede qui ma non si vede qui si che si vede lì ma non si vede la fanno molti closely Comunque vi portiamo davanti, perché anche noi vogliamo vederla davanti, è proprio bella questa città, mamma mia, guardate Fede che corre, quando corre perché è saltato, guarda. Mi vinto un bambino quando vede queste cose perché per me i palazzi sono... Stavo cadendo. Per me i palazzi sono parte di me. I palazzi perfetti sono New York City, che imponenza, signori. Le Petronas Towers sono appunto due torri gemelle, alte 422 metri e costituiscono una delle più importanti opere di ingegneria umana. Prendono il nome della compagnia petrolifera statale malesiana, appunto la Petronas. Vennero costruite a Kuala Lumpur tra 1995 e il 1998 e sono diventate appunto il simbolo del progresso economico della Malesia. Pensate che possiedono 32.000 finestre. Comunque siamo entrati dentro il palazzo perché ora la attraverseremo per arrivare dall'altra parte, dall'altro lato insomma e vedere dall'altro lato. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Comunque ragazzi ci sono giusto un paio di negozietti e poi negoziettini tutti diciamo insomma economici. Bello, bello, bello. Questo vi ricorda un po' l'iper, guarda. No, le corti. È presente? Le corti, qua c'è la pista di pattinaggio. Ci siamo. Un bel ristorantino. Esatto, un altro ristorantino molto cheap. Ci siamo. Stiamo uscendo. Mamma mia, già bellissimo. Wow. Ok, e qui c'è un buco temporale, quindi un'ora buona di cui non abbiamo nessuna ripresa perché appunto spinti dalla paura di quello che c'era successo io ho cancellato completamente tutto, tutte le prove che potessero ricondurre al fattaccio. Vediamo bene cosa è successo perché... Comunque ragazzi all'ingresso di questi, delle Twin Towers ci sono dei stizi con dei macchinari assurdi. Ferti di corretta perché adesso vi racconto cosa è successo. Con dei macchinari assurdi che fanno un sacco di luce e ti chiedono, ti dicono se vuoi, insomma ti fanno una foto. E in effetti viene molto bella perché hanno tutti i loro macchinari con 10.000 luci e viene una foto spettacolare però anche no. Comunque, torniamo a noi. Io ho appena perso credo 27 anni. Non sono mai nata. Allora, ci siamo lasciati. Cioè vi ho appena detto che non ci arrestano. Ci è mancato poco, vi dico questo. Ecco, questo video in cui parlo e alla fine vi dico se non ci arrestano vi faremo vedere le immagini. L'ho cancellato subito dopo l'accaduto perché appunto stavo riprendendo Fede col drone in mano e vi spiegavo. Adesso facciamo qualche ripresa dall'alto e vediamo se non c'è il resto e non ve lo faccio vedere. E sì, signore e signori, il drone è proprio il colpevole di questa storia. Ovviamente insieme a Fede, ma andiamo avanti va. Cosa è successo? Facciamo partire questo drone, immagini stratosferiche ragazzi che mi piando il cuore non farvi vedere perché c'è una cosa assurda. Bellissimo, cioè proprio bellissimo. E io continuavo, ma per sicuro che si può volare col drone perché mi sembra strano che in un posto così importante, così iconico ti facciano volare. No, no, stai qua con me. Ti facciano volare. Anche perché comunque abbiamo il drone, abbiamo tutti i permetti, insomma, l'assicurazione. Ma ogni volta leggiamo sempre ma di entrare in un paese perché anche in alcuni paesi addirittura non si può portare, ma sono pochissimi. In alcuni invece ci sono delle restrizioni, ma di solito le regole sono no aeroporti, no centricità, no posti così importanti, No, Federico fa volare il drone, destra, sinistra, passa in mezzo alle torri. No, non so passato, no, no, non so passato, vorrei farvi vedere il video ragazzi. Se volete vedere il video. Io continuavo, ma sei sicuro che si può far volare il drone? Lui sì, ho controllato, si può far volare. E io mi fido, dato che di solito non mi fido mai e faccio bene. Ecco perché, cosa succede poi a fidarti. E niente, a un certo punto, dopo che abbiamo finito, Fede stava guardando bellamente le foto sul telefono, ne aveva scaricato tre, aveva scaricato una foto. Arrivato dietro, sorry, scusami, hai fatto volare il drone? E Fede, no, 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 non ho detto, telecamere. No, no, non ho detto, amore, non dir bugine. Dai, sentiamo come è andata. Non dir bugine. Non ho detto bugine. Io, sapendo che avevo fatto un sacco di video e un sacco di foto, in alto, cioè tanto in alto, però sinceramente io ho guardato sul sito della DJI e comunque mi sono informato e mi sono informato e gente comunque ha volato. Non è che non ha nessuno volato. Sì, magari qualcuno che hai permessi e che lavora con queste cose. No, poi DJI comunque ho guardato e DJI dava una forma di... Alza un po' la voce. Dava una forma di cerchio su tutta Kuala Lumpur dove diceva di rispettare l'altitudine, che è 120 metri, che comunque io ho rispettato. Che cosa è successo? Allora mi hanno fermato e mi hanno detto ma stavi volando e io ho detto non ho volato. No, prima di te l'ho detto no. E dopo lui ha detto ma ti abbiamo visto con le telecamere, CCTV camera. Allora poi tu hai detto no ma solo le foto. Eh, ho detto solo una foto, infatti avevo solo una foto sul telefono salvata. Grazie a Dio ragazzi che hanno guardato solamente il telefono perché nel drone c'erano... Non so quanti video, no, c'erano due o tre video e qualche foto. Però... Ma meno male... Ho sbagliato. Ho sbagliato. Meno male, meno male che... Cioè ci hanno visto, io tipo stavo tremando, cioè vai a me queste cose. Io sono una, sono una ragazzi che ho l'ansia di tutto quello che è fuori dalle regole, quindi rispetto sempre anche troppo alle regole. Quindi ero tipo stavo tremando ma anche lui sentivo che l'ha agitato. Beh, comunque non è che puoi stare tranquillo in quelle situazioni. Ed erano in tre, due in divisa, uno in borghese. Ci hanno preso, ci hanno fatto una foto a noi col drone in mano. Prima hanno preso il suo telefono e ci hanno fatto cancellare la foto, le due foto che avevano. Dopodiché ovviamente sono andati sulla... Scusate, qua c'è meno casino. Dicevo che dopo sono andati sulle foto eliminate e hanno eliminato anche quelle. E io lì ho cominciato a impanicare, mi ho detto se adesso chiedono anche di vedere le foto sul drone, video sul drone, stiamo, cioè, non nella cacca, però comunque gli avevano detto una bugia. Gli avevano detto che avevamo solo quella foto e invece no. Però invece... Era peggio se vediamo tutte le altre. Appunto, però tu gli avevano detto che avevamo solo quella. Cioè, ecco, se avessero detto no, non vedi il drone? Eh, chiedevo il drone. Eh, avrebbero visto tutte le foto. Ma io ho staccato la scheda. Vabbè, sai di fatto ragazzi che io ero in ansia totale, ho mostrato tutte queste, diciamo, siamo arrestate in prigione, già mi vedevo in prigione in Malese. Vabbè, quando c'entravi te andavo io, mica te, se c'entra il drone è testato a me. Sì, ma perché dopo c'hanno chiesto... E poi comunque ho l'assicurazione. Poi hanno chiesto i nostri passaporti, hanno fatto le foto ai passaporti e poi ripeto una foto, noi due con il drone in mano. Dovevamo tipo al fatibolo, così tristi. E vabbè, nulla, abbiamo chiesto tipo scusa, 10 miliardi di volte e... Ha detto, no, non c'è nessun problema, che qua non si può volare, basta. Poi ho chiesto, ma quella non pure si può volare? Sì. No, adesso... Tranne un aeroporto e qua, questa torre qua. E queste zone, Twin Towers... Grazie signore. E un'altra zona che non ho capito cosa, dove. Ma comunque, sono zone palesi, ragazzi, quando vedete queste cose, è ovvio che il drone non può volare. Giusto? Giusto. Mi ho imparato la lezione? Di quello del primo giro. Ragazzi, vi giuro, adesso rido e scherzo, ma... Tipo 10 minuti fa avevo... Cioè, a parte che non l'ho mai visto Federico... Eh, che cazzo, no. Non l'ho mai visto Federico correre così tanto dopo che ci siamo alzati. Perché oltretutto... No, no, no. Hai capito che il parco chiudeva alle 10? Sì. Eh, era le 10 passate, 10 e 10, tipo... Quindi forse anche per quello che ci hanno visto non hanno notato questa cosa. Magari non l'avrebbero notata. Non lo so, insomma. Sta di fatto, ragazzi, che io personalmente ho perso davvero 27 anni di vita. Comunque, a Franti e con la coda tra le gambe, decidiamo di tornare verso il nostro ostello. Il nostro... Il mio piccolo errore è non formarmi prima. Cioè, potevo tranquillamente, come sempre fatto, chiedere a un poliziotto, che faccio sempre così... Posso volare? Sì, no. Oggi non ci sono. Però non ho successo niente. Dove è ciò che finisce bene? Dove è ancora uscire? No, ancora non è finito bene niente. Usciamo dalla Malesia e poi ne riparliamo. Mancano due settimane, comunque. Nulla, ragazzi, la cosa positiva di questo... Una delle tante cose positive di questo stello... Cambiamo discorso adesso, non c'entra nulla. È che siamo vicini alla metro. Cioè, veramente, a due minuti a piedi, cinque minuti a piedi, siamo vicinissimi. Quindi, nulla. Ora ritorniamo nella nostra stantina a una bella doccia e si va a dormire. Domani sveglia presto. The next day. Ragazzi, buongiorno. Stamattina non ne va una giusta. Allora, stiamo cercando di fare un visto per un paese in cui entriamo tra le treze. E è un visto che è meglio fare un po' in anticipo per una serie di questioni, però non vi spoilerò nulla. Ma semplicemente per scaramanzia, non per qualcos'altro. Vai, siamo scesi per uscire. E praticamente ci sono qualche che le ciabatte di fede non ci sono. Ci sono solo queste, ma quelle come le mie non ci sono. Mi auguro che non siano rubate, ma semplicemente sono in camera. E è un po' nervoso. Soprattutto dopo ieri sera dentro una continuazione in agitazione. Ecco, vediamo. Non ci sono. E niente da fare, ragazzi. Ciabatte ufficialmente sparite. Abbiamo provato anche a aspettare qualche giorno. Non lo so, magari qualcuno avesse per sbaglio scambiato le proprie ciabatte con quelle di fede. E abbiamo pensato, magari una volta accorto dell'errore, rimette a posto. Ma nulla. Abbiamo anche chiesto alla reception, non lo so, di poter guardare e controllare le telecamere. Se qualcuno per sbaglio le avesse prese. Se qualcuno hanno detto tutti i giorni, sì sì, guardiamo, guardiamo. Poi non hanno fatto nulla, noi non ci sembrava il caso di insistere così a fondo. E nulla, abbiamo ricomprato un altro paio di ciabatte. Comunque qua in Lumpur è davvero una bellissima città e avremmo voluto farvi vedere di più. Ma comunque dopo circa una settimana eravamo pronti a ripartire per la prossima mita. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Siamo in partenza, anche il cielo. Sto aiutando, perché così oggi è particolarmente freschino. No, fresco no, però non fa caldo, non si muore. E poi anche il cielo è triste perché ce ne stiamo andando. No, ci dispiace un sacco perché comunque questa città ci è piaciuta veramente tantissimo. e sicuramente vorrò tornarci, vorremmo tornarci. Sì, assolutamente. E nulla, ora si va a fare colazione e poi tra un paio d'ore circa abbiamo l'autobus che ci porterà a Malacca. Ecco qua ragazzi, sono arrivati i nostri nudos. Sì, prontiamo e facciamo colazione insieme. Mi sa che abbiamo l'autobus a luna. Ragazzi, come al solito, sono qua abbandonata alla fede, in mezzo alla strada, perché è dovuto correre in bagno. Salve signore. Nulla. Non so neanche dove è andato, non so quando arriverò. E adesso nulla. Sto aspettando. Dovremmo chiamare un taxi, perché comunque la stazione che era qua dietro, praticamente c'è la signora che è rotta, cioè la fermata non c'è, non è rotta, non è in funzione. Quindi prendere un autobus sarebbe troppo un casino. Abbiamo deciso di prendere un taxi che in 20 minuti ci porta almeno. Sono sicuri di arrivare in orario. Ah, eccolo. Non ti vergogni. Sto andando in bagno, giustamente non c'era la carta igienica. Si pagava. 30 centesimi, ho 50 centesimi in tasca. Tiro fuori i 50 centesimi, pago i 30 centesimi alla signora. Entro, non c'è la carta. Cosa faccio? Esco, io chiesto alla signora. Mi chiesto alla signora. Com'è che hai un po' di carta? 1 ringhitte. Certo, ne ho solo 20. Ma guardate, mi fa. Vai, vai, vai. Io l'ho lanciato i 20 centesimi. No, me l'ha rilanciato. No, no, no. Ah, te l'ho data gratis. You are beautiful. Eccoci ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non sapevamo neanche di aver preso il grab. Ok, io ho fatto quella corsa in bagno. Sì, ho un piccolo problema. Che al mattino quando bevo un po' di tè, freddo. La reazione è altamente rischiosa. Però vabbè, sono entrato appunto nel centro commerciale. Si fa quel che si può. Ok ragazzi, abbiamo stampato i biglietti. Gate number 12 e si parte. Tutto così semplice. 3 minuti, ok? Ragazzi, comunque abbiamo appena provato a passare, ma lo scan automatico dice di riprovare tra tre minuti, perché il check-in apre tra tre minuti. E questa cosa è una cosa super figa, perché così la gente non va ad accalcarsi prima del tempo. E la fanno, l'abbiamo notata tanto qua in Malesia. Sì. Negli altri posti no, in Malesia sì. Si fanno entrare per, diciamo, accalcarsi. Esatto. Nella stessa posizione. Niente ragazzi, l'abbiamo provato alle 12 precise, il biglietto si è scannerizzato e siamo entrati. Finalmente ragazzi è arrivato il nostro bus, anche se vuol dire in ritardo. Vabbè, niente. Si va, si vola. Thank you. Siamo arrivati e adesso dobbiamo prendere un bus che ci porterà direttamente in città per poi andare in albergo. Eccoci qua ragazzi, appena entrati in camera, ragazzi guardate qua che splendore, ci mancava una camera così. La nostra l'aria è condizionata, abbiamo tutto lo spazio disponibile. Ringraziamo i ragazzi che hanno postato su Instagram la storia di questa guesthouse perché senza di loro forse non saremo qua, forse. Comunque, lui è fantastico, simpaticissimo, carinissimo, giovanissimo. Ci ha praticamente fatto un mini briefing appena siamo arrivati in cui ci ha spiegato tutti i posti. Davvero bravissime. Veramente ragazzi, infatti non vediamo l'ora perché c'è il mondo da provare. Ma poi quanti ristoranti ci ha dato? Sì, un sacco. Questo è il nostro bagnetto e qua entra il nostro camera. Qua c'è la reception. È fantastico, cioè. No, veramente. Grazie per aver detto che sono sudato, cioè tutti lo sanno che sudo perennemente io. Dunque per 13 euro è veramente fantastica, cioè bella, grande, spaziosa e nulla. E ora ci laviamo e si schizza fuori a cercare di mangiare. Usciamo per andare a mangiare qualcosina. La mappa l'abbiamo lasciata dentro ma non fa niente perché stasera andiamo solamente a mangiare in un posto dove ci ha indicato... Freschino sboglio. Sì, si sta bene. Sì, sono messa qua nuda praticamente. Un po' piove, cioè leggermente piove. Comunque, sì, è bellissimo. Vai, fa fresco. Una breve sosta per spiegarvi dove ci troviamo. Siamo a Malacca. La città di Malacca è appunto una città della Malesia occidentale, capitale dell'anonimo stato, appunto stato di Malacca. Pensate che il 7 luglio del 2020... Nel 2028 stavo dicendo. Pensate che il 7 luglio del 2008 venne inserita dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità. Insieme a Georgetown, se ve la ricordate, la nostra amata Georgetown di Penang. E i secoli di colonizzazione portoghese, olandese e britannica, oltre alla cultura cinese, influenzarono l'architettura cittadina. Ed è possibile vederlo in tutti gli edifici che abbiamo visitato in quei giorni, appunto, a Malacca. Un giorno abbiamo anche deciso di visitare il cimitero cinese, che si trovava proprio davanti al nostro ostello. E abbiamo scoperto essere il cimitero cinese più grande al di fuori della Cina. E mi sembra che contenesse 12.000 tombe. Allora, qua c'è questo ingresso. Steps leading to Bukit, China. Giusto, giusto. Sai che ho scoperto che Bukit vuol dire collina? O monte, così. Perlomeno siamo nel fresco qua. Comunque questo cimitero si trova esattamente davanti alla nostra guest house, quindi praticamente a tutti i giorni. Cimitero che si trova davanti al paese, perché è talmente enorme. Sì, enorme. No, però diciamo che siamo davanti. Un po' davanti. Ecco, guarda. Qua abbiamo già il primo esempio di somma. Infatti, come vedete, sono tutte costruite sulla collina, perché sono costruite come in pendenza. Ragazzi, comunque io ve lo giuro, non so più cosa devo fare. Cioè, ogni volta che siamo in giro, a Fede ha bisogno del bagno. Smettila di Bertiltà con il latte, cioè. Questo è il frutto strano che dicevi? Sì, esatto. Cioè, credo che arriva da questi pianta. Questa pianta. Questa pianta. Eccola qua, guarda, la vedi? No, proprio. Potremmo assaggiarlo? No. Jessica, ma che cosa sta succedendo? Ma come fai ad assaggiare un frutto che non sai neanche qual è? Ma, lo prendo. Ma lo prendi, lo mangi. Vedo tutti se va bene, per esempio di mangiarle. Ma ti pare? Comunque qua sta crescendo dal frutto. Lo vedi? Ma vai. Dal frutto sta crescendo la pianta. E poi questo è strano. Guarda questo germoglio qua, infatti. Guarda che bello. Esatto. Ma è ma pazzesco? Ma sono tutte piene di germogli. Praticamente cadono e fanno questo, cioè cresce, fa la pianta e sarà il prossimo albero. E' pieno. Ma diventa così, si secca e poi diventa così. C'è un palazzone là dietro. Ecco, vedete? Qua c'è la discesa e la tomba è rivolta verso là. Pensate, 30 di queste tombe, sarà difficilissimo individuarle, appartengono a musulmani. Ma che dici? È vero. Cinesi musulmani? No, guardi. Comunque, devo dire che un cimitero così sarebbe invogliato a venire a morire. Ragazzi, questo video sul cimitero è più che altro una lotta per Federico a non andare a non cadere. Comunque, io voglio mangiarne uno. Non lo so, non si fa, penso che si possa. Ma guarda qua che sberloni. Perché non si può mangiarne uno secondo te? Ragazzi, appena tu c'è stata cara. E vedi che noi i pasti strani ci portano a fortuna. Cioè, girate un attimo, per favore, puoi raccontarvi cosa è successo? Stavamo camminando e abbiamo ricevuto quella notizia che aspettavamo da ormai tre giorni. Sì, che a me era già arrivata di un visto, ragazzi, parliamo di un visto. Io mi sono preoccupato per questo visto perché per noi è veramente importante questo visto perché se non avevamo la garanzia di questo visto dovevamo cambiare totalmente i piani. Comunque, a me è arrivata l'altro giorno questa risposta e pensavamo arrivasse insieme. Invece non è arrivata e adesso praticamente ci siamo fermati un secondo. Ma perché ci siamo fermati perché hai visto la notifica? Sì, dall'orologio mi è arrivata la notifica. Io pensavo che stesse guardando la strada per scendere e oggi c'era la mail, c'era una notifica della mail. E quindi ci siamo guardati così in ansia a vedere. E comunque ci hanno accettato in un paese dove per noi parte un nuovo inizio. Sì, un nuovo avventura tra qualche mese, ragazzi. Quindi, continuate a seguireci. Intanto ci dobbiamo esaltare per il cimitero. Grazie, cinesi. Grazie, antenati cinesi, per l'energia. Grazie, antenati cinesi, per la notizia. Oddio, c'è l'energia. Altissima, guarda. Ah, sì, altissima. I miei piedi che sono l'ultimo. Dove andiamo? E mettetelo in un cazzo della via per uscire. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Allora, oggi ultima colazione qui a Malacca e finalmente è aperto il nostro posto del cuore davanti alla guest house. C'è un signore dietro che sta ridendo dietro di te che è bellissimo. Non guardare, no, no, non guardare. È proprio dietro, proprio dietro di te. E... Allora, questa è la nostra colazione del cuore. Nel nostro posto del cuore. Allora, abbiamo scoperto gli scottoni perché i... Praticamente i... di Bao e la signora non ce l'aveva l'altro giorno e la scorbutica un po'. Quindi, visto che è la scorbutica, abbiamo preso i biscottoni e abbiamo fatto... E abbiamo scoperto una roba buona. Esatto, che sono giganti. E poi abbiamo one-time meat, sono zuppa per Fede e dry per me. Poi, siccome abbiamo avuto problemi legati al latte e dobbiamo smetterla col latte, il nostro tè è o ice. Quindi, per chi ha studiato nelle lezioni precedenti, vuol dire senza latte ma ghiaccio. Buon appetito! Ah, in tutto questo siamo pronti a ripartire. Ok, siamo pronti. Pronti a partire. Mi stavo addormentando. Comunque gli autobus sono sempre puntualissimi qua in Malesia. E dopo un viaggio in cui abbiamo congelato come se fossimo in un frigorifero, siamo arrivati nella nostra ultima tappa del nostro viaggio in Malesia. O almeno così credevamo. Gior Baru, infatti, l'avevamo scelta come destinazione finale prima di entrare a Singapore. Sì, avete capito bene. Singapore è uno stato a sé. Si trova sulla penisola malese, ma è uno stato completamente indipendente. Serve un altro visto per entrare. Non fa parte della Malesia come molti credono e come anche noi credevamo al prima di fare questo viaggio. E si trovava precisamente circa una mezz'oretta da Gior Baru. Arrivati ragazzi, abbiamo congelato. C'erano 5 gradi sotto zero in quell'autobus. Ho le mani, tipo le dita. Non ne sento più. Ragazzi, Jessica mi ha detto di portarmi in giro. Ma più che altro che devo riempire la pallaccia. Venite con me, mi porto a un bel posto. Allora, ecco come si presenta l'ostello. Ma dove ti ha visto questa per riempire l'acqua? Ah no, 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 qua fuori già è vero. Comunque, ecco come si presenta la guest house. Questa qua è l'entrata. Qua c'è il distributore dove c'è ogni, in ogni ostello e guest house abbiamo sempre, sempre, sempre avuto il distributore d'acqua potabile. Ovviamente come tutti i posti devi sempre lasciare le scarpe. Ho tenuto la porta perché c'è il codice. Entri dentro e ecco come si presenta la guest house. Un bel divano, un frigorifero dove poter mettere magari qualcosa che magari hai appena comprato. Dove magari poter mangiare anche qua. Qui abbiamo un ferro da stilo. Dall'altra parte c'è una lavanderia. Queste sono tutte le camere. Questi sono come si presentano i bagni. Classico doccia, water, lavandino. Ce ne sono due. E poi qua abbiamo la parte dove poter stendere. C'è una lavatrice. E qua Jessica si potrebbe benissimo asciugare i capelli. Ma non lo fa perché lo fa direttamente in camera. Bellissimo. Pulito di notte, sì, i miei capelli sono bellissimi. E questa è la nostra camera. Come vi accennavo prima, abbiamo deciso di cambiare totalmente i nostri piani. Dopo Singapore la nostra idea era quella di entrare in Indonesia da Ovest, ovvero da Sumatra. Ma facendo due calcoli sarebbe stato uno sbattito assurdo perché avremmo dovuto prendere traghetti per arrivare appunto in Indonesia via mare, via terra, insomma, senza prendere aerei. Per poi risalire tutta l'isola e con sicuramente altri mezzi sarebbe stata veramente una fatica assurda per non parlare di una spesa economica notevole. In più guardando i prezzi per qualche ostello a Singapore c'erano i prezzi alle stelle. Erano circa 40 euro a notte in due, ma un ostello, quindi una camera, neanche una camera privata e non era tantissimo, si sarebbe potuto fare per tre giorni perché erano tre giorni e basta a Singapore. Ma facendo due calcoli, quindi il costo di Singapore, il tragitto per arrivare in Indonesia troppo dispendioso, abbiamo pensato di tenere Singapore per una prossima volta. Sicuramente ci sarà occasione di tornare magari con un budget un pochino più alto e quindi abbiamo completamente stravolto i piani. Abbiamo deciso di risalire la Malesia, tornare a Penang e da lì prendere un volo diretto a Medan Nord Sumatra. Ed è esattamente ciò che abbiamo fatto. Ragazzi, allora, stiamo spariti per un po' di giorni, per un po' di tempo in realtà, ma ora siamo pronti e carichi per portarvi di nuovo con noi. Siamo in stazione. Siamo in stazione. Se ci avete visto arrivare qua, ma effettivamente ce ne stiamo già andando. Arriva qua dove? Già qua a George Bar. Ah, George Bar? George Bar. Ma ormai in Georgetown ce l'abbiamo nel cuore, c'è solo quello per noi Malesia. George Bar, comunque dobbiamo stare qua. Ora entriamo. Vabbè, sentiamoci qua la nocci. Intanto siamo arrivati al gate, come vedete, il gate 5. Siamo appunto arrivati, siamo finalmente per lasciare la Malesia, che per quanto l'abbiamo ammata, adesso è arrivato il momento, sentiamo proprio dentro il bisogno di andare. Quindi ora prendiamo un autobus tra un'ora e mezza di 9 ore e arriveremo domani mattina alle 7. Ora sono le 8. Arriviamo domattina alle 7. E domani alle 1. A Penang. Quindi torniamo a Penang, ragazzi. Torniamo a Penang perché è un nuovo paese. Abbiamo un volo domani alle 1 per Medan. Medan, dove è Medan? Non ve lo diciamo. Cercatelo. Cercatelo. È in Indonesia, ragazzi. Domani finalmente entriamo nel nostro, quale paese? Sesto paese. Sesto paese. Niente, Fede sta provando a vedere se possiamo entrare già adesso o se dobbiamo aspettare la mezz'ora prima della partenza. che lancia il cartello con scritto di presentarsi mezz'ora prima della partenza. Ecco, ragazzi. Ci hanno appena chiamati il nostro bus. Siamo on the bus. On the bus. Comunque vogliamo ribadire che questi autobus seduti per viaggiare anche in notturna, quindi notte, sono la vita. Sono molto più comodi degli sleeping bus. che, tra l'altro, non sono neanche sicuri per niente. E ogni volta, le ultime volte erano un po' un'ansia prenderli, vero? Sì. Perché, boh, questi autobus sono super comodi. Sono praticamente lunghissimi. C'è larghissimo lo spazio. Quindi, è bella coccola. Abbiamo già lasciato i nostri bagagli. Adesso siamo pronti per fare l'uscita dalla Malesia. Sei pronta? Preoccupata? Tu sei preoccupato? Va bene, siamo pronti. Possiamo dire due cose a caldo? Si congela, si congela, ragazzi. Mai avuto così freddo in un aeroporto? E tutta la notte in autobus, che non abbiamo detto com'è andata? Bene. Diciamo. Si sono provati decimila volte, praticamente. L'aria condizionata a palla. 16 gradi. Si, no, si congelava, veramente. Ragazzi, abbiamo l'uscita e io sono estremamente rilassato perché avevo sto gruppone qua di quello che c'era successo alle Petronas. E avevo una paura enorme, anche perché adesso vi faccio vedere quali erano le conseguenze. Andiamo a fare i controlli. Raga, ma io mi sto chiedendo una cosa. Ci sono un sacco di persone in carrozzina e secondo me è una scusa. Riprendere i posti più comodi. Perché non ho mai capito, cioè non ho capito una cosa. Sono in carrozzina ma hanno tipo le ciamatte tutte usurate nel cammino. Cioè proprio la suola proprio consumata. Questo vuol dire che sai camminare. E raga, c'è i capelli che fanno schifo. Jessica non mi vuole tagliare perché non hai coraggio e quindi mi faccio i ceppetti. Mi taglio i ceppi. Sto valutando di tagliarmi i capelli a zero. Ragazzi, Jessica mi sta obbligando ad andare in coda. Forse perché stanno imbarcando gli ultimi e ho scelto per la prima volta i posti. Sorry. Ho scelto per la prima volta i posti proprio gli ultimi. Cioè proprio gli ultimi, gli ultimi. Mi capiranno poi. C'è un signore che ti sta parlando. Ciao carissimo, fai il tuo dovere. Ragazzi siamo gli ultimi laggiù in fondo. A parto di te bani di capire in fondo. Sì. 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 Comunque ho detto qualcosa su uno spray per gli insetti prima della partenza dell'arrivo E a quanto pare stiamo quasi per afferrare Devo farvi notare che Fede ha preso dei posti qua dietro, cioè gli ultimi Ma io pensavo... Ma io pensavo... Io pensavo che l'avessi... Sì, infatti, io pensavo che ti fossero capitati questi due posti Cioè scelti tu con tanto di cesso qua, che si dettano ogni rumore quando vanno al bagno E qua è tutto vuoto, cioè potevo sdraiarmi invece no, il muro Il muro dietro Ah, sì, infatti Stai pure lontano Poi c'è Aldo Chi? Aldo E chi è? Non è Aldo, ma è anche in basso È un Aldo? È un Aldro? Il video finisce qui oggi Come avete visto è stato un video molto... Tranquillo, rilassante Che però vi abbiamo portato con noi che è il nostro obiettivo Esatto Ragazzi adesso arriveranno i video che non vediamo l'ora di fare, di montare, di pubblicare Quindi mi raccomando state con noi perché arriviamo nel vivo del nuovo paese Ed è per questo che siamo così conciati perché siamo stati un po' non stressati Però ci ha messo un po' alla prova Quindi nulla ragazzi, vi lasciamo come al solito grazie davvero di cuore per averci seguito fino alla fine E nulla, promettiamo di essere un po' più attivi quindi speriamo di vorrei riuscire a ripubblicare di nuovo almeno, almeno un video a settimana Quindi ci rivediamo prestissimo ragazzi, un abbraccio enorme E grazie per essere sempre con noi Sì, esatto E nulla, al prossimo video Ciao